Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna ci sono ancora 7 km di coda ma in diminuzione per un incidente adesso risolto tra Arezzo e Incisa Reggello. Per traffico intenso rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Ancora per traffico intenso sulla A11 code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1 in direzione Firenze. Sulla A12 per lavori 3 km di coda tra Carrara e Versilia in direzione Livorno. Su raccordo Siena-Bettolle rallentamenti in entrambe le direzioni tra Casetta-Monteaperti e Castelnuovo-Berardenga per lavori. Su raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal km 47 al km 50. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!